Grazie a tutti e devo dirvi che dalla stanza che ci ha creato Grazia, se 15 anni fa mi avessero detto che appunto avrei fatto questa attività, avrei condotto e poi partecipato a molti gruppi di lettura, avrei detto ma guarda è assolutamente impossibile perché la lettura per me era quello che diceva lei, cioè era anche soprattutto nell'adolescenza un rifugio, cioè alla fine secondo me quando tu hai letto un buon libro la magia è già finita lì, cioè tra te tu hai fatto il tuo dovere tu come lettore e lo scrittore che ti ha dato il libro la magia è lì conclusa. Poi qualche, una decina di anni fa ho partecipato a un convegno a Venezia e ho conosciuto Herbert Lothman che davvero mi ha affascinato con questo racconto dei gruppi di lettura americani e allora da lì ho detto boh si può provare, tanto per provare vediamo. E ho creato il mio primo gruppo di lettura che si chiama, no c'è ancora anche se è cambiato luogo, che si chiama Librar, leggere al bar perché ci trovavamo in un bar dove dopo qualche anno ci hanno cacciato perché facevamo troppa confusione, quindi adesso siamo ospitati in una libreria però ci è rimasto il Librar, leggere al bar. E cioè pensate un po' beata giovinezza, il primo libro che ho assegnato, diciamo così, che ho deciso di leggere con questo gruppo è Il ragazzo giusto di Vikram 7, credo 1600 pagine. Quindi per dire che ero ancora molto vergine, questa cosa qui non la farei mai assolutamente più, però alcune di queste lettrici e di questi lettori, c'erano un paio anche di uomini, io li incontro ancora e ancora adesso stiamo discutendo sul fatto se Lata abbia davvero sposato il ragazzo giusto, quindi ne parliamo ancora. Poi come diceva giustamente lui, questo convegno è stata per me l'occasione anche di fare un piccolo bilancio così del mio lavoro e effettivamente ho cominciato a contare che tra Mantua città e la provincia sono circa 30 i gruppi di lettura, alcuni io magari li ho iniziati, alcuni ci vado ogni tanto, alcuni li seguo più da vicino, alcuni con i quali semplicemente corrispondo o utilizzo nel mio materiale e poi spostandomi dalla provincia, sono stata anche alla Spezia, ho un gruppo a Roma, alla fine ho fatto i conti che circa una cinquantina di gruppi, questo per dirvi che qua è vero che c'è scritto il mio nome e materialmente sono io, però in realtà quello che vi racconterò sono, come diceva prima Grazia, io, i libri che ho letto e le persone con cui ho parlato, cioè questo è fatto da tante voci. Ho pensato, per entrare subito nel tema di, sempre fatto con i miei lettori, di vedere i pro e i contro di un gruppo di lettura, naturalmente sono stata molto affascinata dalla lettura spiegata a chi non legge, una sorta di gruppo di lettura spiegato a chi non ci va, che non è facilissimo. Io credo che tra l'altro, ho visto che Luca ha messo anche questi riferimenti letterari, romanzi, insomma in qualche modo, che rappresentano i gruppi di lettura, ma forse al di là di leggere Lolita Teran dell'Anafisi, la letteratura non è ancora riuscita, secondo me Grazia, a ricreare davvero letterariamente il clima che si respira in un gruppo di lettura. Allora, partiamo con i pro, partiamo positivamente. Secondo me il pro del gruppo di lettura l'ha detto benissimo, molto meglio di me, Peter Bixell, sottolineando questa necessità della lettura e di confrontarsi con gli altri. Se si incontrano dei lettori, se si incontrano due lettori che per caso si sono entusiasmati per lo stesso libro, si getteranno le braccia al collo. Ma succede raramente. Io sono sempre alla ricerca di lettori, cerco solo per fare un esempio qualcuno che abbia letto Volava un uccello senza piume di Elganovax e so cosa mi porterei su un'isola deserta dove si è completamente soli senza possibilità di tornare. Conosco anche le due risposte classiche, la Bibbia o un taccuino vergine. Condivido entrambe le risposte, ma su quell'isola non mi porterei nessun libro, perché senza la comunicazione quotidiana con altre persone cessano entrambe le cose, sia il leggere che lo scrivere. Se non altro, devo poter comunicare che ho letto. E questo per chi, anche se all'inizio erano molto scettica, per chi frequenta un gruppo di lettura è davvero così. Cioè un gruppo di lettura è davvero un amplificatore di punti di vista e di sensazioni. E aggiunge davvero qualcosa alla tua lettura privata. Tante volte mi è successo di andare molto convinta del mio parere su un libro e poi sentendo gli altri lettori tornare a casa e dire ma io questa cosa non ce l'ho letta, aspetta che lo rileggo. Questa secondo me è essenzialmente la base. Poi ci sono molte notazioni anche pratiche che mi hanno segnalato i lettori. Intanto che è un'attività assolutamente economica, soprattutto se come dicevamo prima si svolge in una biblioteca, anche le biblioteche mantovane tra l'altro sono tutte in rete, anche con Brescia e Cremona, quindi noi non abbiamo nessuna difficoltà anche a procurarci spesso 15-20 coppie di un libro. E quindi è un'attività assolutamente economica, non c'è bisogno di acquistare il libro, non c'è neanche bisogno di attrezzature o cose particolari. Spesso il mio intervento si chiama un gruppo in ogni contrada perché effettivamente nel Mantovano ogni qualche chilometro c'è un gruppo di lettura, quindi non ci sono neanche dei grossissimi problemi di spostamenti e si possono anche fare al limite del car sharing, che io consiglio non sempre perché all'andata non c'è problema, al ritorno dipende poi da com'è andata la discussione, quindi magari rischiate di essere lasciati magari giù perché la vostra opinione è esatto. Poi è un'ottima scusa il gruppo di lettura, cioè anche in famiglia chi vi direbbe qualcosa quando dite che uscite la sera per andare al gruppo di lettura? Non c'è nessun problema, cioè io perlomeno anche mio marito non oppone nessuna resistenza a questo, cioè mi sembra un'ottima scusa, ecco, anche tranquillamente che mette a posto la famiglia. Adesso tornando più seriamente, come vi dicevo, un amplificatore di sensazione e punti di vista, ma anche l'occasione spesso per leggere dei libri che magari tu non avresti mai preso in considerazione. Ieri avevo un gruppo dove abbiamo letto Stoner di Williams e questa signora mi ha detto, guarda se tu mi avessi detto che leggevo una storia di questo tipo ti avessi detto escluso assolutamente. Poi invece siccome era il libro del gruppo l'ho letto e poi insomma era anche entusiasta, però non ci avrebbe assolutamente mai provato. Questi secondo me sono i due fatti principali. Passiamo ai contro perché giustamente di tutte le cose ci sono i pro e i contro. Il rischio del gruppo di lettura è che è contagioso, è un magma secondo me, cioè non ha confine, è un po' come il sasso che buttate nell'acqua, cioè non sai quanti cerchi riuscirà poi a fare, è incontrollabile. Cioè il gruppo di lettura non sono le 10-15 persone che vengono al gruppo di lettura, è molto di più perché ognuna di quelle persone porterà poi la sua lettura, la sua esperienza contagiando qualcun altro. Io spesso trovo delle persone che mi fermo e dico ah bellissimo quel libro del gruppo di lettura, ma io non ti ho mai visto, gli dico. No io non vengo, però ho un'amica che mi passa tutti gli stessi libri e poi le riparliamo insieme. Quindi c'è sempre questo contagio. Ma anche questo può creare quindi anche dei nuovi lettori. La pericolosità la sottolinea, parere autorevole, non sono io, è Schopenhauer. Quando noi leggiamo, un altro pensa al posto nostro. Noi ripetiamo semplicemente il suo processo mentale. Pertanto, nella lettura la maggior parte del lavoro del pensare ci è elevata. Da ciò deriva il tancibile sollievo quando passiamo dal compito delle nostre stesse riflessioni alla lettura. Veramente è la nostra testa durante la lettura altro non è che il teatro di pensieri estranei. Quando questi infine dileguano, che cosa resta? Di qui deriva che chi legge molto si rilassa frattanto col passatempo dell'assenza del pensiero e lentamente smarrisce la facoltà del pensare da sé. Proprio questo è il caso di parecchi lettori. Si sono rimbecilliti col leggere. Questa è una delle note, insomma, è giusto farvi presente anche i rischi quando dobbiamo trovare i pro e i contri. Poi ci sono vari, c'è un bellissimo libro che leggere nuoce gravemente la salute di Gian Caspo. Insomma, c'è un'ampia letteratura e su questo è anche molto piacevole. A me piace molto anche una posizione di Roddy Doyle che dice può capitare ovunque, a una cena, al pub, mentre si aspetta l'autobus, è in classe o in una libreria. Comincia a parlare con qualcuno che non conosce e tutto procede bene. Poi a un tratto, senza preavviso, senti quelle quattro parole e allora sai che quel rapporto non andrà oltre il tempo necessario per dire penso che ti piacerà. E questo mina un pochettino tutto quello che succede in realtà dentro al gruppo di lettura. Questa frase, prosegue Nicorbi, è già abbastanza presuntuosa se usata posiamo per un nuovo tipo di patatina. Ma se si sta parlando di libri, allora è assolutamente imperdonabile una barbarie sociale grave quanto dare una pacca sul sedere. Pensi che mi piacerà, vero? Bene, mi ci sono voluti più di 50 anni per cominciare a capire cosa penso che potrebbe piacermi e anche così mi sbaglio metà delle volte. Perciò quante possibilità credi di avere? Ogni tanto incontro qualcuno capace di darmi consigli ragionevoli e azzecati sui libri nei primi cinque anni della nostra conoscenza. In generale però do ascolto solo a persone che conosco da una ventina d'anni di cui molti passati a discutere di cose che amiamo e odiamo. E qua direi che con alcuni gruppi possiamo già essere sull'onda di questo tempo. Poi più seriamente diciamo che i punti negativi intanto quello che vi dicevo prima del fatto che il gruppo di lettura crea un eco molto ampio e incontrollabile. Questo può essere negativo, cioè non si trova nei confini quindi non si sa dove a un certo punto questo fenomeno non è ancora stato studiato così a fondo infatti questa giornata è fondamentale anche per questo, capite? per i dischi per capire anche dove stiamo andando. Poi scardina le tue certezze, cioè devi mettere in conto che quando partecipi a un gruppo di lettura anche quei libri, quei pareri, quelle cose che per te erano molto intime e molte proprie potrebbero davvero essere scardinate col dialogo con gli altri lettori. Poi crea dei mostri, cioè io questo ve lo dico sinceramente circolano liberamente ma esistono io ricordo uno dei miei primi gruppi di lettura è venuto questo settantenne camionista appena andato in pensione si era trovato prima sempre in giro poi senza niente da fare aveva letto l'annuncio del gruppo di lettura dice guarda io non ho studiato però insomma provo a venire ho detto ma guarda che assolutamente il gruppo di lettura è molto democratico ecco questa è una cosa che abbiamo anche scritto poi nella carta che concluderemo stasera e lui era molto timido dice sai tutte le altre sono queste professoresse io non so cosa dire ho detto ma non importa tu vi il tuo parere tranquillamente le prime volte non diceva niente poi si notava due paroline secondo me sempre molto intelligenti però diceva e poi insomma pian pianino si è aggregato al gruppo e non se n'è più andato io l'ho rincontrato dopo qualche anno in un'altra biblioteca di solito io quando magari non ci sono tutti nella discussione sempre mensile io partecipo ogni tanto e magari porto un elenco di libri che io contro il parire di Nicola vi consiglio e spesso con una particolare attenzione alla piccola e media editoria ma questo è un capitolo a parte molto ampio che non tocco e quindi insomma porto ai miei lettori magari alcune indicazioni e ho rincontrato questo camionista Aldo che è venuto da me mi ha detto ma sì 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 quegli elenchi che tu ci dai ma sì ma sì gli oletti cioè quei libri lì ma sai io adesso sto leggendo la storia di Elsa Morante ah dico va bene non dico più niente va bene quindi questo come dico sempre come dice bene Alan Bennett nella sovrana lettrice la lettura è un muscolo è vero è proprio vero e allora io concludo che se la lettura è un muscolo i gruppi di lettura sono la nostra palestra grazie a tutti